Ma voi pagani come noi? Certo signorina, vi presento, io sono Remo Lavagna, questo è l'assistente, un bravo di capocino, si chiama Silas. Ah, piacere, io sono Davis Leon, della polizia investigativa di Napoli. Ah, la poledà! Sì. Quindi lo devo francese. Leon non è un cognome francese. Ah, dà! Allora, andiamo avanti, questo è il signor Jerry D'Avicio, un pittore. Il suo assistente è Tommaso Foccella. Piacere, eh sì! La signorina è Stoffia San Carlo, esperta e storia dell'arte. Noi siamo qui per vedere ricerche, ma voi invece come mai qua? Siete venuti voi che siete là e chiediamoci noi che siamo capoconici. Siamo in pericolaccio, va bene. Siamo a missione segreta. Siamo in missione perché siamo missionari. Ah, missionari. E siamo lì a programma la parola di Dio. Io non so se mi spiego. C'è il tuo, guarda qua tutto. C'è il tuo, guarda qua tutto. Scusate, ma ha parlato di missione segreta. Ecco, segreta. Ecco, segreta. Ecco, segreta. E' segreta perché quello è il frate del convento, il suo vedone, è ammalato. Allora, se noi ci diciamo che la parola di maggiori soli è mi chiedo pure di venire purissimo da fare una cosa inserita. Sì, già siete venuti di nascosto. No, bravo. E poi, dopo tutto, chi è che non potrebbe venire qua a visitare questa città? E' la Sanna. E' la Sanna, e' la Sanna. E' la Sanna. Che sa, o' è la Sanna? Abita in alto un guaglio, se vittano un sacco. E' la Sanna, e' la Sanna.